La low carbon economy è un obiettivo che ormai è stato assunto a livello globale, è stato assunto dalla comunità europea ed è stata assunta anche dal nostro paese e la regione Emilia Romagna assieme a tante altre regioni hanno deciso di operare in tal senso, soprattutto lavorando sulle strategie energetiche. Oggi questo convegno è particolarmente importante perché si confronteranno alcune regioni che da molto tempo pianificano in termini di energia sostenibile e quindi potrà essere davvero un confronto per capire quanto è stato fatto, quanto ancora è necessario fare rispetto ad un obiettivo che rimane fondamentale per la nostra regione e anche per il paese, quindi le buone prassi, le buone pratiche ma anche le impostazioni dei piani energetici possono essere un ulteriore strumento e anche stimolo rispetto sia al paese e anche ad altre regioni italiane e europee. Grazie. 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 Grazie.